Buongiorno a tutti, ben arrivati, con una certa emozione, devo dire, avviamo i lavori di questo seminario e appunto innanzitutto vorrei fare il benvenuto a tutti quelli che siete presenti. Comincio col dirvi due parole giusto su chi sono io e poi si presenterà la collega che insieme a me vi accompagneremo in questa mattinata. Io sono Daniela Marzana, psicologa, psicoterapeuta e in COIRAG sono docente della sede di Milano. Buongiorno a tutti, io sono Ormella Galutti e sono coordinatrice d'anno della sede di Padova della scuola COIRAG. Ecco, dicevamo con una certa emozione perché potremmo dire che questo è un po' una mattinata di inediti, una giornata di inediti. Il primo sicuramente è per la storia di COIRAG questo seminario nazionale che riunisce appunto tutte le scuole, tutte le sedi della scuola COIRAG e che quindi vede in questo momento una grossa comunità COIRAG riunita di docenti, allievi, ma anche diplomati, candidati soci, quindi i nostri appunto allievi già specializzati. Sicuramente, come molti di noi sanno, ma avremo modo anche di ricordare questa mattina, questo è un po' l'esito di un percorso molto lungo e che ci vede tutti molto soddisfatti del raggiungimento che oggi un po' si inaugura di questo risultato nazionale appunto. Inoltre è il seminario dell'anno che apre all'anno accademico, non a caso il titolo del seminario appunto parla di aperture e sono numerose le aperture che ci avviamo insomma un po' a compiere in questa giornata. Una è molto evidente sotto i nostri occhi ed è un po' appunto l'apertura al digitale, non più così attuale se vogliamo perché è già un anno che vi siamo immersi, però in qualche modo per noi continua a essere una novità l'uso del webinar a cui siamo grati che in qualche modo apre anche delle possibilità ma che continua ad essere un mezzo insolito per noi che facciamo della prossimità in qualche modo la nostra arma più efficace. L'altra apertura è sicuramente a tutto quello che sta accadendo, a tutto quello che ci sta intorno, quindi l'apertura anche a nuovi sguardi e su questo con molto piacere e molta gratitudine sono lieta insomma di ringraziare di già e di accogliere il nostro ospite d'onore di oggi, il direttore del Censis, dottor Massimo Massimiliano Valeri, che rappresenta appunto l'apertura con cui apriamo oggi grazie anche alla possibilità di poter attivare uno sguardo che ci aiuti un po' a comprendere appunto quello che sta accadendo sia a livello nazionale che a livello anche più globale, ma avremo modo tra poco poi di presentare più diffusamente il nostro ospite e di dargli parola. Chiederei a Ornella invece di presentarci un po' l'articolazione della mattinata e come apriremo. Grazie. Sì, benvenuto anche da parte mia a tutti quanti. La giornata sarà suddivisa nella mattina e nel pomeriggio. La mattina lavoreremo tutti insieme, tutte le sedi. Nel pomeriggio invece si lavorerà nelle singole sedi della scuola. Rispetto alla mattinata, anche la mattinata può essere suddivisa in due parti. Prima della pausa avremo gli interventi della Presidente Coira, della Dottoressa Cohen, del Preside, Dott. della Prea, e appunto del nostro ospite d'onore, Dott. La Dottoressa Cohen, che presento subito, ci farà un'introduzione all'apertura dell'anno accademico. La Dottoressa Cohen, brevissimamente, è una psicologa, una psicoterapeuta, ha diretto il workshop nazionale, poi è stata preside della scuola, prima del Dottore Prea, e ora è Presidente Coira. Prima di passarvi la parola, specifico che questa mattinata è registrata. Quindi se qualcuno poi, nella seconda parte, vorrà partecipare, vorrà alzare la mano, dopo vi spiegheremo come fare, sappia che comunque questa mattinata è registrata. Successivamente daremo tutti gli stupi. Bene, passo la parola alla Presidente. Grazie Ornella, grazie Daniela. Buongiorno a tutti. Sono veramente contenta di dare il benvenuto ai nuovi iscritti alla Scuola di Specializzazione. della COIRAG e a quanti stanno proseguendo il percorso formativo iniziato negli anni scorsi. Do il benvenuto anche ai docenti della Scuola e ai direttori delle sedi con i loro consigli di sede e ai candidati socio. Naturalmente è caramente benvenuto anche il nostro relatore, Dottor Massimiliano Valei. Questo inizio di anno accademico è anche l'avvio del mio secondo anno come Presidente dell'Associazione COIRAG. Il primo anno da poco finito e segnato in modo inequivocabile dalla situazione drammatica che il pianeta sta attraversando, è stato però per noi anche un anno denso di proficuo lavoro comune ed impegno e passione condivisa. Oggi, in questo webinar di apertura dell'anno accademico 2021, siamo più o meno 300 persone. È il primo avvio nazionale dell'anno accademico. Mi dispiace non potervi vedere tutti perché sarebbe emozionante avere una visione complessiva della Scuola Nazionale. D'altra parte, sono grata, come già diceva la Dottoressa Marzana, a questo strumento tecnologico che ci ha permesso, nel 2020 e ci permette oggi, di ritrovarci a dispetto delle misure di distanziamento che dobbiamo adottare. In questa mia introduzione non vorrei raccontare dal mio punto di vista cosa significa in questi anni intraprendere un percorso di formazione alla psicoterapia. Ci ragioneremo insieme, ma soprattutto preferirei sentirlo dire da chi questo percorso lo sta facendo. Quello che vorrei invece dirvi, in questo breve spazio in cui ho il compito di portare i saluti dell'Associazione ai partecipanti, è che cosa la COIRAG si augura che accada durante il vostro percorso formativo, rispetto ai legami reciproci e pensando al futuro dell'Associazione stessa. Devo per forza fare una brevissima premessa, soprattutto per chi ancora nulla conosce della storia COIRAG, ricordando che abbiamo in questo momento in ascolto 70 nuovi iscritti al primo anno della scuola. La COIRAG, che per esteso suona Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi, esiste dal 1982 e nel 1993 ha istituito la propria scuola di formazione. Sono passati quasi 40 anni dal momento in cui la COIRAG è stata fondata. Per fortuna la Confederazione iniziale nel tempo ha avuto la capacità di cambiare sino ad arrivare alla configurazione attuale. Oggi siamo una federazione di nove associazioni, nell'insieme quasi 500 professionisti. Una comunità viva in cui coesistono diverse metodologie rivolte alla cura del disagio psichico nei suoi gradienti di gravità. Oggi siamo retti da uno statuto votato a fine 2019 che ci accompagnerà sino al momento in cui, se tutto va bene, diventeremo ente del terzo settore nel 2023. Questa scelta associativa ha comportato un entusiasmante processo trasformativo che stiamo ancora vivendo. I cardini di questa trasformazione li posso riassumere così. Il primo lungo e articolato passo va dal 2010 al 2016, anni in cui è maturato il progetto condiviso di diventare scuola nazionale, con programmi formativi che non contenessero vistose variazioni da sede a sede e che culmina oggi con il nuovo ordinamento della scuola, di cui più estesamente e competentemente vi parlerà il preside. Il secondo momento cardine di queste trasformazioni lo collocherei a fine 2019, quando è stata votata dall'associazione COIRAG, di cui la scuola è emanazione, la scelta di trasformare il legame associativo passando da confederazione a federazione e di tendere a diventare nel 2023 ente del terzo settore. Il terzo lo vedo nella costituzione dei centri territoriali, che sono incubatori di progetti anche imprenditoriali e che vedono la presenza di tutte le associazioni federate e dei candidati socio, nonché potenzialmente di tutti i soci delle associazioni federate. L'ultimo, ma non in termine di importanza, è stato l'aver istituito, e quindi incluso nello statuto, la categoria dei candidati socio. I candidati socio sono i diplomati COIRAG che, della federazione e della sua specificità di interventi clinico-sociali, sono i portavoce e che, per due anni, diventando candidati socio, potranno trovare una casa transitoria che permetta loro di lavorare e di scegliere nel tempo un'appartenenza associativa vera e propria nell'associazione federata che preferiranno e che, nel frattempo, avranno potuto conoscere. Il desiderio e l'auspicio dell'associazione sono dunque che il percorso formativo possa far nascere negli specializzandi il desiderio di partecipare alla vita associativa e di mettere le competenze acquisite al servizio di una professione rivolta al sociale che trovi continuità, nutrimento e sinergie progettuali nell'appartenenza alla comunità COIRAG. Permettetemi di chiudere questa introduzione alla giornata con un ricordo personale che mi si è dispiegato quando ho letto il titolo della giornata. Aperture, scienze umane e sociali, oltre i paradigmi della claustrofilia. Il termine claustrofilia ne ha catapultato negli anni Ottanta. Nel 1983 è stato pubblicato un libro di Elvio Facchinelli, il cui titolo è appunto Claustrofilia. Elvio Facchinelli, per chi non lo ricordasse, è stato uno psichiatra, uno psicanalista, un appassionato esploratore dell'animo umano in rapporto al contesto di vita e un attento osservatore del mondo sociale e delle sue dinamiche. Era un convinto assertore dell'educazione non autoritaria, come d'altronde era nell'area dei tempi, che purtroppo è mancato nel 1989. Claustrofilia è un testo strano e in un certo senso inquietante, però allora mi aveva molto colpito, non solo per le ipotesi teoriche, sulle quali non stiamo neanche a entrare, quanto per la capacità di Facchinelli di dare voce a pensieri impensati e forse anche impensabili, nati nell'incontro con i suoi pazienti. Un ascolto aperto che nulla esclude dell'incomprensibile, della fatica, a volte della gioia, della relazione con la sofferenza psichica. Soprattutto ripensare a Facchinelli. Facchinelli abitava dalle mie parti e spesso al mattino ci trovavamo al caffè a chiacchierare. Mi ha fatto ritrovare uno dei tanti fili a cui si ricollega la parte della formazione alla psicoterapia che non è del tutto codificabile. Ha a che fare con la capacità di non escludere nulla nell'incontro con i pazienti e con le situazioni cliniche che affrontiamo in nome di presunte ortodossie. È un lascito inestimabile che mi auguro possiamo perseguire nel nostro lavoro attuale. Vi leggo due frasi che sono state prese da Grottesche. Un libro pubblicato l'anno scorso contiene stralci dai diari che Facchinelli ha scritto per tutta la vita. Ve le leggo per due motivi. La prima citazione ve la leggo perché in un certo senso ci sfida e suona così. Rileggendo appunti l'analisi appare al limite una conversazione fra un cieco che descrive qualcosa che non vede e un sordo che non sente quello che l'altro dice eppure risponde. La seconda citazione che va contestualizzata nel tempo in cui è stata scritta, cioè nel 1975, ve la leggo perché suona come un monito per ogni istituzione che abbia vocazione claustrofilica. È paradossale, dice Facchinelli, il destino di molti rivoluzionari. Lavorano sul serio a una cosa che, per essere fatta, per diventare realmente popolare, implica necessariamente l'entusiasmo, il senso di avventura, la novità e sono spietati nell'ucciderla. Infine vi leggo una frase di Sergio Benvenuto che chiude un suo articolo in ricordo di Facchinelli. L'articolo ha a che fare col fatto che Facchinelli non ha fondato scuole psicoanalitiche, ma che chi lo ricorda e ne ricorda la forte valenza euristica lo fa anche per affetto. Dice benvenuto a conclusione di questo suo articolo, forse le scuole annullano quello che conta, la trasmissione per affetto. Io mi auguro e auspico che la nostra non sia una di quelle scuole. Concludo la mia introduzione dicendo che non mi resta che augurarvi, in quest'anno ancora così difficile per la forte emergenza sanitaria ed economica che stiamo tutti affrontando, di disporvi allo studio con la stessa o con maggiore passione che tutti i docenti vi spiegano nei loro insegnamenti e di costituire fra voi una rete che possa nel tempo dialogare con COIRAG per continuare ad inventare e a costruire il comune futuro. Grazie a tutti. Grazie alla Presidente COIRAG di questa introduzione. Prima di passare la parola al nostro preside, che è uno psicologo psicoterapeuta, che da un anno ormai è preside della nostra scuola. Per chi si è collegato successivamente, ricordo che sono presenti al tavolo la dottoressa COIRAG, il presidente COIRAG, il preside della scuola, il dottor Massimiliano Valeri. Buongiorno a tutti. Anch'io non posso che iniziare dall'emozione che deriva dall'essere presente con voi in questa giornata. Anche se non sono visibili le 370 persone, però colgo molto il segno di questa giornata come un avanzare collettivo della nostra realtà associativa e della nostra scuola. Quindi un'apertura realizzata insieme. In particolare il mio benvenuto va a chi si è appena iscritto alla scuola e che inizia adesso un percorso che è di fatto interminabile. E il mio ringraziamento, come quello della Presidente, va a tutti i colleghi impegnati nella scuola. Quindi non soltanto gli allievi iscritti, i nostri specializzanti, ma anche chi la scuola l'ha appena finita e anche i colleghi con cui condividiamo la responsabilità di costruirla ogni giorno la scuola. Quindi i colleghi della Giunta di Presidenza e i colleghi docenti. Sono molto grato della loro presenza e della volontà di inoltrarci insieme in questo nuovo percorso. È un inizio d'anno, come diceva Daniela Marciana, particolare, segnato da un anno estremamente difficile che ha sconvolto l'ordinarietà della nostra vita e anche delle nostre consuetudine formative e che ci apre a un'incertezza con cui iniziamo anche questo anno accademico. Ma, come è stato detto, è anche un anno segnato da scoperte e dalla forte volontà della coerache della sua scuola di non arretrare rispetto a dei processi che sono stati avviati. Quello che mi pare più significativo è di fatto quello che oggi in realtà celebriamo con questa apertura d'anno, che è anche un'apertura di una nuova fase della vita della scuola che, come voi saprete, è retta oggi da un nuovo ordinamento didattico. Questi anni c'è stato uno sforzo collettivo degli organismi della scuola di interrogarsi criticamente sulla formazione partendo dall'analisi della clinica reale e contemporanea affidata a noi e ai nostri colleghi più giovani. Queste analisi sono via via confluite in un ordinamento nuovo che contiene alcuni balsi in avanti, soprattutto da alcuni punti di vista e cercherò di chiarirlo in seguito ed è stato anche questo frutto di un intenso lavoro collettivo. Qual è il segno più evidente di questa trasformazione della scuola? A mio avviso possiamo coglierla nei seminari. All'interno dei seminari noi portiamo dei temi che sono contigui a quelli specifici del nostro sapere psicoterapeutico. Trovate temi come filosofia della mente e della cura, antropologia culturale, psicologia sociale, etnopsicoterapia, epistemologia della complessità, il contesto normativo della nostra professione, la storia della nostra professione e le leggi che hanno organizzato i servizi della salute mentale, etica, diritto, progettazione. È una linea che ha il senso di sottolineare quanto in questo momento abbiamo bisogno di pensare insieme, quanto in questo momento abbiamo bisogno di affacciarci ai nostri confini disciplinari e interrogare saperi che indagano la formazione del collettivo. È una giornata particolare per me anche perché ci dà la possibilità di continuare a essere in dialogo con il direttore del Censis e inevitabilmente anche con una punta di orgoglio che mi piace iniziare quest'anno accademico ospitando il dottor Massimiliano Valeri che oltre che essere direttore del Censis è stato ed è la persona che dà di cura i rapporti annuali sulla situazione sociale del paese. Nel pensare a questa mia introduzione in questi giorni più volte mi è capitato di ripensare allo scambio attivato qualche anno fa nella mailing list della Coera dove abbiamo iniziato a scambiarci note, appunti capitoli del rapporto annuale del Censis e da quel momento a questo momento è stato un percorso lungo e estremamente ricco. A miei occhi i lavori del Censis hanno un merito particolare, quello di costruire le condizioni per rendere possibile un'analisi interdisciplinare dei temi trattati, proprio la direzione verso la quale la scuola sente di andare e ciò a mio avviso anche perché i rapporti del Censis hanno una chiarezza ed un rigore che però è come se sono attraversati regolarmente da quella che io chiamerei una vocazione narrativa, cioè la capacità di parlare attraverso immagini, di produrre immagini che a volte sono fulminanti per condensare il senso di un processo in atto e per delinearne in qualche modo le possibili evoluzioni. È interessante questo confronto con le immagini dei rapporti del Censis, in questi anni mi è capitato più volte di ritrovare spontaneamente immagini molto simili nelle narrazioni delle persone con cui lavoro, quindi all'interno del lavoro clinico, nelle narrazioni di sé che le persone, le famiglie, i gruppi fanno delle loro vicende apparentemente private e singolari. Io trovo proprio in questa comunanza di immagini, in questo comune registro simbolico tra individuale e collettivo i grandi insegnamenti della nostra tradizione di pensiero, quelli in particolare riferiti ad una soggettività permeata, attraversata anche nel suo intimo, negli spazi che possono sembrare più reconditi dai fenomeni collettivi, una soggettività innervata e animata da codici di significazione delle culture di appartenenza, delle storie, delle etnie e delle comunità familiari e dal sedimento affettivo della matrice di legami, in cui cresce, si sviluppa, potremmo dire evolve ed involve la mente umana. E c'è qualcosa in più. Negli scritti di Valeri, anche nelle sue recenti pubblicazioni, l'anno scorso a Roma abbiamo presentato un suo testo, di fatto c'è un altro, Il contagio del desiderio, che è dal titolo anche all'intervento del dottor Valeri di oggi. Io trovo qualcos'altro che è molto importante per noi. E questo qualcos'altro, dal mio punto di vista, è il continuo richiamo al primato temporale del divenire, una sorta di inclinazione, a volte uno sbilanciamento in avanti, una negazione del dato in funzione di ciò che non lo è ancora, una inquietudine, una a volte scomoda, irritante e irrequietezza, l'impossibilità di dimorare nella rassicurazione del già dato, del già conosciuto, che è la nostra postura propriamente umana. È la nostra attenzione creativa, desiderante, trasformativa, che ci permette di trattare la gruda, a volte amara o anche tragica, uvidità del presente attraverso l'immateriale, la nostra disposizione, la disposizione della nostra mente di immaginare, di produrre futuro. Io credo che questo sia un richiamo estremamente presente nei testi di Valeri che ben dialoga con chi ha scelto di fare la professione di analista. Mi fermo su alcune questioni che mi sembrano preliminari per poter svolgere tra noi oggi un ragionamento. I paradigmi claustrofilici hanno a che fare sia con i paradigmi scientifici sia con qualcosa che ci attraversa, potremmo dire lo spirito del tempo. Siamo nel terzo o comunque l'ennesimo ciclo della paura che inspessisce i confini tra noi e l'altro. E io credo che un'analisi dobbiamo farla anche per quanto riguarda le nostre comunità professionali. A questo proposito ci sono delle citazioni inevitabili che dobbiamo fare. Dovete sapere, molti di voi lo conosceranno, è un articolo che ha fatto epoca uno dei più grandi psicoanalisti contemporanei, Kermberg. Qualche anno fa e poco prima di assumere la carica di presidente dell'Istituto Internazionale di Psicanalisi, la massima autorità mondiale di psicanalisi, scrive un articolo con questo titolo «30 modi per distruggere la creatività degli allievi degli istituti di psicoanalisi». Una sorta di progetto politico in realtà per la sua presidenza. È un articolo, dal mio punto di vista, molto bello, anche evidentemente paradossale. È un manuale al contrario. Che cosa dovrebbero fare le scuole di formazione in psicoanalisi per uccidere la creatività, l'entusiasmo dei propri allievi? Allora c'è qualcosa che in una giornata come oggi devo assolutamente leggervi, ma queste cose che vi leggo, ve le leggo invece da altri testi sempre di Kermberg, che ha un suo pallino su questo. Come altri studiosi, mette in evidenza quanto la chiusura di paradigmi scientifici attraversi anche la modalità istituzionale con cui si organizzano le associazioni di psicoanalisi. In particolare, in un suo contributo, anche qui recente, Kermberg dice Io penso che gli istituti psicoanalitici, se vogliono sopravvivere, devono sviluppare nuove conoscenze e svilupparle in stretto contatto con le scienze limitrofe, il che significa che gli istituti psicoanalitici dovrebbero ristabilire contatti clinico-professionali con la psichiatria, la psicologia clinica, le scienze sociali e umane, le humanities, dove la psicoanalisi può insegnare e imparare. Questo significa, per esempio, che nei seminari dovrebbero essere invitati docenti da altri campi, in modo da mettere la teoria psicoanalitica in contatto con quello che accade in altre discipline. Nello stesso testo, a un certo punto, dice senza mezze parole che gli istituti di psicoanalisi hanno seri problemi con la realtà esterna. e dice ancora questo, che lui si muove dalla preoccupazione condivisa della relativa stagnazione in cui versano ormai da pericchi anni i nostri metodi formativi. Ci sarebbe tanto altro ancora da aggiungere, ma lui dice a un certo punto che gli istituti dovrebbero far entrare nel gruppo degli insegnanti dell'istituto stesso anche un certo numero di altri docenti, altamente qualificati, provenienti da altri campi di nitrofi, a quello della psicoanalisi. Antropologi, filosofi, sono tutte figure che dovrebbero far parte della struttura dei seminari di un istituto psicoanalitico, prescindendo dal fatto che essi siano d'accordo oppure no con le teorie fondamentali della psicoanalisi. Se lo intendiamo fino in fondo, è un monito, diciamo, sferzante alla pretesa di poter comprendere l'uomo e la sua mente, chiaramente oggetti storici in continua trasformazione attraverso delle visioni date. C'è molto il richiamo in Kermerg al pericolo delle liturgie istituzionali che piuttosto di trasmettere un modo di pensare, trasmettono le conclusioni storicamente determinate di quel modo di pensare. Parole finali mie e soprattutto relative al nostro ambito professionale. Anche qui negli ultimi anni sono stati prodotti documenti molto interessanti, c'è un'analisi della demografia professionale, che è un tema caro anche al dottor Valeri. Nella nostra professione abbiamo un fenomeno invertito rispetto a quello sociale. Abbiamo una piccola base di formatori, un piccolo vertice di formatori su una demografia professionale incontrollata, soltanto dei piccoli dati che ci possono dare il senso delle sfide che abbiamo di fronte. In Italia i psicologi, parlo di psicologi perché sono nella stragrande maggioranza coloro che frequentano i nostri corsi, gli psicologi sono circa 120.000. Soltanto la metà esercitano la professione. La metà della metà, quindi 30.000 colleghi, hanno dei redditi inferiori alle soglie di povertà, dentro le soglie di povertà. E questo non all'avvio della professione, ma per lunghi periodi. Quindi questa precarietà professionale evidentemente diventa anche una precarietà di vita. L'altro dato è che la formazione universitaria, come prima dicevo, che non ha limiti, diciamo per adesso sia stessa, sul trasmettere una cultura generale psicologica, mentre invece molto poco la formazione universitaria è connessa con i bisogni clinici emergenti dalla società. E lo stesso mondo delle scuole di psicoterapia, se non bastassero le parole di Kemmerg, c'è la realtà italiana che ci dice che qualcosa non va. Ci sono più di 350 scuole di psicoterapia, quasi una per ogni giorno dell'anno, con più di 450 sedi. E per parole dell'ex coordinatore della commissione del MIUR, il controllo di qualità è soltanto documentale. e quindi c'è un pericoloso combinato disposto di una demografia professionale incontrollata che in genere accede alla professione con una precarietà legata alla bassa qualità dei percorsi formativi che intanto un'altra generazione professionale organizza per loro, trovandosi a confronto con fenomeni clinici di grandissima complessità che possono essere affrontati solo laddove si sia disponibile a pensare alla persona in termini di gruppali, ma anche a pensare a dispositivi gruppali di intervento. Io chiudo dicendomi che una cosa che mi ha molto colpito recentemente è stato presentato dall'Empap, che è l'ente di presidenza, l'ente di previdenza degli psicologi, uno studio sull'immaginario collettivo rispetto alla psicologia. In tempo di Recovery Fund c'è una corsa ad accreditarsi come una professione assolutamente fondamentale per il futuro. Non so bene se lo si stia facendo nel modo giusto. Ad ogni modo questo studio che è stato presentato riportava il fatto che nell'immaginario collettivo lo psicologo non è tanto chi cura ma è un facilitatore di processi che in qualche modo sono già dotati in loro di un dinamismo. Allora e anche chi era intervistato non vedeva nello psicologo una persona che può fare danni. Se ci pensiamo bene questo è illuminante su questo immaginario collettivo ed è un immaginario collettivo che anche noi costruiamo perché nell'ambiente delle persone la funzione della cura evapora e la cura viene pensata di fatto come la cura di una certa gamma di disagi, i disagi meno gravi, quelli in cui il nostro compito è accompagnare delle evoluzioni laddove c'è una mobilità psichica. Il mondo interno diciamo ricapitola in questi casi il mondo esterno ma tutti i casi in cui c'è una gravità, tutti i casi in cui ci sono persone in qualche modo più giovani e sordi di gravi disturbi in età adolescenziale. Quindi sono tutti i casi in cui non c'è qualcosa di fluido e il lavoro che deve essere fatto creando dispositivi adeguati è quello invece di rendere fluido ciò che non lo è per renderlo pensabile, parlabile, condivisibile. Ecco nell'immaginario collettivo noi non presidiamo più questo territorio e credo che questo accada non soltanto perché siamo sotto l'ombrello del paradigma diciamo biologico, la terapia della mente diventa dopo 40 anni la terapia fatta di letti di ospedali e di farmaci, di interventi in apuzie ma anche perché abbiamo probabilmente contribuito come categoria professionale a un altro riduzionismo, quello della colpa in genere della generazione precedente. Quindi non ci siamo allenati a gestire complessità e soprattutto a creare dispositivi che abbiano quantomeno la stessa complessità delle situazioni su cui interveniamo. Io ho concluso, do il benvenuto anch'io al dottor Valeri e spero in una giornata proficua di analisi di ciò che connette il collettivo all'interiore e il personale. Bene, grazie. Ringraziamo anche il Preside per questo intervento che insomma ha già aperto molte finestre credo di riflessione e di collegamento con quello che adesso proviamo tutti appunto ad ascoltare con l'idea di aprire a questi nuovi scenari. Del nostro ospite è già detto molto ma mi piace ricordarlo ancora una volta appunto che come già ricordato dal Preside è direttore generale del Censis ma soprattutto è il curatore dell'annuale appunto rapporto sulla situazione sociale del Paese che è considerato assolutamente uno degli strumenti più qualificati e completi per interpretare la realtà socio-economica del nostro Paese. Quanto mai rilevante in questo momento in cui lo scenario è così cambiato e così ancora mutevole rispetto al prossimo futuro. È stato ricordato anche la parte anche di scrittura più personale del nostro ospite quindi non soltanto legata al Censis ma con la casa editrice Ponte Alle Grazie ha pubblicato nel 2019 il testo a cui si faceva riferimento la notte di un'epoca contro la società del rancore i dati per capirle le idee per curarla e adesso nel 2020 il contagio del desiderio che è il testo che dà il titolo anche appunto alla relazione che ci propone oggi. Darei spazio quindi al nostro ospite che ringrazio e a cui do parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto un doveroso ringraziamento per avermi voluto con voi questa mattina in questo momento di confronto e di riflessione comune e grazie per la bellissima introduzione in particolare per le parole del preside Antotino Aprea sul mio lavoro e in generale sul lavoro del Censis. Quindi grazie molto e anche perché avete scelto di invitarmi e sono lusingato di questo in un momento eccezionale anche per la COIRAG e per la scuola con questa inaugurazione del nuovo anno accademico all'insegna di un nuovo ordinamento che è proprio indirizzato verso l'apertura, l'apertura alle altre scienze sociali e umane. È presente nel titolo di questo appuntamento, ed è già stato richiamato un intervento questa mattina, il riferimento implicito a un grande maestro irregolare, quale era Elvio Fachinelli, quale ha molto lavorato contro una certa ortodossia psicoanalitica. Merito anche di Massimo Ricalcati è stato quello di averlo ricordato con un libro uscito da pochissimo, anche questo per Ponta e la Grazia, critica della ragione psicoanalitica, uscito un paio di mesi fa, che ricorda questa figura per certi versi straordinari. Quindi da una parte apertura, intreccio con le altre discipline, con le altre scienze umane e sociali, dall'altra un riferimento implicito a un maestro o a maestri, anche io lo farò oggi, maestri irregolari, in qualche modo si sente il rischio di ogni specializzazione del sapere, quello di una certa chiusura, una certa claustrofilia. Devo dire che è esattamente quello che faccio anche io nel mio lavoro, nel mio lavoro quotidiano, da una parte come direttore del Censis, cioè di un istituto di ricerca sociale ed economica che basa le sue analisi, le sue interpretazioni sui dati, sulle statistiche. Dall'altra anche come autore di quel paio di saggi che sono stati ricordati, in cui cerco anch'io la contaminazione, addirittura con la filosofia, o anche la contaminazione dei registri, registri linguistici, quello dell'analisi puntuale, rigorosa, ma anche quello, il registro narrativo. E questo credo che sia in qualche modo il motivo per cui oggi sono qui con voi, a riflettere con voi. Porto già io stesso una testimonianza, quella della insufficienza dei dati quando si cerca di fare analisi e interpretazioni dei fenomeni, delle tendenze sociali. Ecco perché io cerco spiegazioni che guardino anche altrove, ma credo che, insomma, questa mattina, nello spazio di tempo, nel tempo che mi avete concesso, avrò un modo di spiegarmi meglio. Addirittura cerco io addirittura anche riferimenti biografici quando l'ho fatto nei due libri che sono stati citati, riferimenti biografici che possano aiutarci addirittura a spiegare l'opera di alcuni autori. Pensate, nella prima di un ciclo di lezioni su Aristotele nel semestre estivo del 1924, il grande Heidegger esordì in questa prima lezione in maniera lapidaria, gelida. Parlando di Aristotele disse, nacque, lavorò e morì. Punto. Poi parlò della sua opera. In qualche modo anche Croce si riferiva, usando una parola con un po' di disprezzo scartafacci quando parlava dei diari intimi, degli abbozzi di lavoro, delle lettere dei filosofi che studiava. Liquidava quella dimensione, quella biografica, quella dei frammenti di un'esperienza anche intellettuale come poco interessante, mentre era l'opera che diceva tutto, non il filosofo, non l'autore. Io molto più modestamente invece cerco anche nel tratteggio di alcune personalità, di alcuni intellettuali, di alcuni pensatori a cui mi rivolgo, cerco invece aiuto anche in alcuni elementi biografici. Quindi ancora una volta siamo sul tracciato della contaminazione dei saperi, della deliberazione delle discipline e addirittura anche dei registri linguistici. E anche oggi parlerò di un personaggio che è al centro del mio ultimo libro, Il contagio del desiderio, che è stato ricordato, che è un filosofo in realtà poco conosciuto, filosofo di origini russe, naturalizzato francese del secolo scorso, che si chiama Alexandre Kojev, che ho cercato in aiuto, diciamo così, ho cercato un suo aiuto nel suo pensiero, nel suo lavoro, anche nella sua esperienza esistenziale, per cercare di decifrare quello che ci sta accadendo, quello che sta accadendo alla nostra società, direi più in generale alle società occidentali in quest'ultimo scorso di storia. Ci tornerò fra poco, ma prima di entrare nel merito del pensiero e dell'ascido di questo grande pensatore del secolo scorso, che secondo me rimane molto attuale per spiegare l'oggi, i nostri tempi, prima di parlare di Alexandre Kojev e di riattualizzarlo ai nostri tempi, vorrei però fare una fotografia, diciamo così, congiunturale dell'anno che abbiamo appena concluso, il 2020, l'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, proprio perché, insomma, per tenere sempre comunque i pieti ben piantati per terra. Dobbiamo inevitabilmente iniziare questa riflessione di oggi, con qualche valutazione sull'anno che abbiamo appena chiuso, su questa esperienza per molti versi eccezionale, straordinaria, inedita, che è quella dell'epidemia, della pandemia che abbiamo vissuto. E anche qui, forse in maniera controintuitiva, la mia idea, l'idea che mi sono fatto, la mia tesi, è che in realtà, per quanto sembrerebbe fin troppo banale dire quanto abbia segnato una discontinuità nelle nostre vite, nelle nostre esistenze, no? È evidente, abbiamo sopportato una limitazione, restrizione delle nostre libertà personali senza precedenti, abbiamo sconvolto la nostra quotidianità, abbiamo vissuto la reclusione casalinga forzata, tutto questo è fin troppo banale ricordarlo. Però se ci pensiamo bene, in realtà l'epidemia che abbiamo vissuto, che si è abbattuta sulla nostra società, sulle nostre strutture sociali ed economiche lo scorso anno, ha rappresentato uno straordinario, potentissimo fattore di accelerazione di una serie di processi che erano già in atto, di una serie di fenomeni che erano preesistenti, al punto tale da squarciare violentemente il velo sulle nostre fragilità strutturali, al punto da farci dire il re è nudo. Tutto è stato, come dire, disvelato in maniera potentissima, straordinaria sotto i nostri occhi. E voglio fare una serie di esempi per spiegarmi in maniera chiara, concreta. Ma parliamo innanzitutto della sanità, che è stata sicuramente la dimensione sulla quale si è concentrata la nostra attenzione in maniera prioritaria lo scorso anno e ancora oggi, evidentemente. Beh, insomma, la sanità, abbiamo vissuto una emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale, ma anche lì sicuramente è stata un'accelerazione di una serie di processi che erano già in atto, perché non possiamo dimenticare che noi, il nostro paese, viene da anni di contenimento della spesa pubblica destinata alla sanità, pur in un paese, l'Italia, in cui l'incidenza della spesa pubblica per la sanità rispetto al PIL è inferiore rispetto ad altri grandi paesi europei. Beh, una serie di misure di contenimento della spesa pubblica per la sanità che ci ha portato a sostanzialmente eliminare i presidi sanitari diffusi sul territorio, soprattutto nelle regioni con piano di rientro dal deficit sanitario, sono state delle norme per la chiusura di presidi sanitari con meno di 120 posti letto. Risultato? Quello che abbiamo sperimentato, cioè una pressione insopportabile sui pronto soccorso e sui reparti dei grandi ospedali. E oggi torniamo a parlare della necessità di una medicina di territorio che ci consentirebbe di impedire nel caso di picchi di domanda di prestazioni sanitarie, come nel caso di una emergenza come questa, di un'epidemia, ci consentirebbe di impedire quella pressione insopportabile sugli ospedali che invece abbiamo conosciuto quest'anno. Secondo tema, la scuola. Da infinite polemiche quest'anno, lo scorso anno, sul problema dei banchi monoposto con le rotelline che non arrivavano negli istituti scolastici, ma anche qui ci siamo dimenticati che veniamo da anni di disinvestimento sulla scuola, al punto tale che la polemica l'anno prima era quella sui contributi volontari delle famiglie, che poi erano tutt'altro che volontari, anche per l'acquisto di beni di consumo indispensabili per il funzionamento della scuola. Come anche abbiamo scoperto che l'introduzione della didattica a distanza come soluzione, abbiamo scoperto che ha lasciato fuori, ha escluso dall'insegnamento, dalla scuola, numerosi ragazzi, soprattutto quelli evidentemente in condizioni familiari più svantaggiate, privi ad esempio di device tecnologici, di connessioni. Ma è stata una falsa scoperta perché sapevamo benissimo che la scuola e il sistema formativo nel nostro paese si caratterizzano nell'ambito europeo tra quelli con i maggiori tassi di abbandono scolastico e che il nostro sistema formativo è fortemente gravato da un problema di mancanza di inclusione. Quindi anche sulla scuola niente di nuovo in fondo. È stata anche in questo caso un'accelerazione di un processo che già conoscevamo. Il tema del lavoro, dell'occupazione. Ora noi abbiamo dati consolidati al terzo trimestre dello scorso anno che ci dicono che nonostante il blocco dei licenziamenti per decreto si sono persi in Italia più di 500.000 posti dall'inizio della pandemia. Se poi andiamo a vedere chi sono queste persone che hanno perso il lavoro, ripeto, nonostante il blocco dei licenziamenti fissato per decreto, scopriamo che per il 76% l'occupazione persa ha riguardato giovani e donne. Ma anche qui sappiamo già che questi due segmenti sociali sono quelli maggiormente esclusi dal mercato del lavoro. L'Italia insieme alla Spagna e alla Grecia ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa ed ha semplicemente in Europa il più basso tasso di attività femminile, il 57%. Pensate che in Germania si raggiunge il 75%. In Svezia si supera l'81%. Quindi anche da questo punto di vista si tratta di una accentuazione, di un'accelerazione di fenomeni che già conoscevamo. Pensate che nel mezzogiorno il numero delle donne occupate nelle regioni del sud è pari a quello che l'Italia intera registrava negli anni 70, 50 anni fa. Posso andare avanti con gli esempi. Parliamo ad esempio dei consumi, uno dei comportamenti più significativi delle famiglie che ci aiutano a comprendere lo stato non soltanto dell'economia ma più in generale i comportamenti sociali. La sappiamo naturalmente che lo scorso anno con il lockdown di primavera ma poi insomma con tutta l'incertezza e le restrizioni che hanno caratterizzato l'anno noi avremo una perdita del PIL nel 2020 tra il 9 e il 10%. Sono crollati i consumi evidentemente. Ma anche qui si è trattato di un'accelerazione di un fattore che già conoscevamo perché ancora alla fine del 2019, quindi prima dell'esplosione dell'epidemia, i consumi degli italiani come anche gli investimenti non erano ancora ritornati ai livelli pre-crisi con riferimento alla grande crisi economica esplosa nel 2008. Ovvero la pur debole ripresa che l'Italia aveva conosciuto negli ultimi anni, ripresa economica, era riconducibile sostanzialmente alle esportazioni che hanno continuato a correre anche durante gli anni della crisi ma non alla domanda interna appunto consumi e investimenti delle famiglie che erano ancora sotto i livelli del 2008. Quest'anno, quindi l'anno della pandemia, il 2020 i consumi sono crollati accentuando ancora una volta un fenomeno che era preesistente e che è riconducibile sostanzialmente a un'incertezza pervasiva presente nel corpo sociale. Tant'è vero che un altro fenomeno che ha continuato ad accentuarsi nel 2020, anche questo assolutamente, preesistente è quello che io chiamo l'ingrossamento del lago della liquidità, cioè continua ad aumentare le disponibilità economiche tenute in forma liquida da parte delle famiglie, ovvero contanti e depositi bancari non vincolati, ovvero tutte risorse sottratte ai circuiti dell'economia reale, consumi e investimenti. Voi pensate che i soldi parcheggiati, diciamo così, sui conti correnti da parte delle famiglie italiane hanno ormai superato un valore di mille miliardi di euro e come io ricordo sempre si tratterebbe della sesta economia europea. Cioè dopo la Germania, il PIL della Germania, il PIL del Regno Unito, quello della Francia, dell'Italia, della Spagna, c'è la liquidità degli italiani. Quindi un ristagno di liquidità che viene sottratto ai consumi e agli investimenti, ancora una volta per incertezza. Posso continuare ancora con gli esempi per dire come questa epidemia abbia rappresentato un fattore di accelerazione delle nostre vulnerabilità, parlando ad esempio di una certa rissosità della politica che non ci siamo fatti mancare neanche in quest'anno così eccezionale, oppure dei conflitti interistituzionali tra Stato e Regioni. Ma anche questo non è un fenomeno nuovo, perché negli ultimi anni la Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere controversie sulle materie concorrenti tra Stato e Regione in centinaia di occasioni. Quindi come vedete tutti questi esempi che ho portato per dire che il sistema Italia si è trovato alla prova con la crisi, l'emergenza sanitaria, si è trovato a svelare tutte le sue vulnerabilità strutturali. Cito gli ultimi due esempi. Un debito pubblico macroscopico che è stato ulteriormente aumentato per alimentare sussidi, ristori per le persone che erano state costrette a interrompere, a cessare le proprie attività e oggi abbiamo un debito pubblico in rapporto al PIL intorno al 160%, enorme, accentuando quel debito intorno al 130% che avevamo prima che era altrettanto enorme. Quindi conti pubblici spinti su una china molto pericolosa in un paese caratterizzato strutturalmente da una bassissima crescita economica. Voglio ricordare che negli ultimi dieci anni, tra il 2009 e il 2019, il PIL dell'Italia è aumentato soltanto del 2,4% in termini reali, i paesi nella media europea hanno conosciuto un aumento del 16,7%. Allora questa carrellata di esempi, mi scuserete se sono entrato fin nel dettaglio dei numeri, questa carrellata di esempi ci dicono appunto quella che è la mia analisi, la mia tesi interpretativa di come questa pandemia ad oggi, piuttosto che rappresentare per il nostro paese un momento di forte discontinuità, ha rappresentato un'accelerazione di fenomeni preesistenti, ha squarciato il velo definitivamente sulle nostre vulnerabilità strutturali, al punto da dire, come dicevo, il re è nudo, nessuno può più nascondersi dietro un dito. Questa è la fotografia del nostro paese, a cui si aggiunge, e chiudo con gli esempi, un'accentuazione ancora pericolosa di quella che è una deriva demografica impoverente, anche questa per niente nuova. Noi sappiamo che nel 2020, non abbiamo ancora i dati definitivi consolidati, sprofonderemo sotto la soglia dei 400 mila nati nell'anno. Nel 2019 erano stati 420 mila, quindi ancora un record negativo, ma io ogni anno mi ritrovo a parlare di come anno dopo anno battiamo record, nuovi record negativi in termini di denatalità, come ricordo sempre, siamo ai minimi storici di sempre, dal 1861, l'anno dell'unità d'Italia, non si facevano così pochi figli, neanche durante la prima o la seconda guerra mondiale, quindi anche da questo punto di vista si accentua un fenomeno negativo preesistente, quello della denatalità. Insomma, questo è il quadro e questo disegna anche lo scenario futuro, quello di un paese che quando finalmente si sarà lasciato alle spalle l'emergenza sanitaria, si dovrà confrontare con il problema di sostenere un elevatissimo debito pubblico ed una spesa sociale pubblica sempre più necessaria in ragione dell'invecchiamento demografico in termini di sanità, assistenza, previdenza, mentre è caratterizzato da una bassissima crescita strutturale dell'economia, da un impoverimento demografico e un ripicciolimento del paese in termini di peso demografico, perché la popolazione italiana sta diminuendo dal 2015 in avanti, con un tessuto sociale fortemente impregnato di incertezza, un'incertezza paralizzante al punto tale che porta le famiglie italiane a tenere i soldi fermi sui conti correnti piuttosto che destinarli a consumi e investimenti. Questa è la fotografia dell'oggi e quindi ci disegna il futuro del paese con cui ci dovremo confrontare. Ma al di là della lettura congiunturale dell'anno nero, della paura nera della pandemia, questo 2020 così doloroso in cui ci siamo la paura della morte addirittura ci ha riportato alla nostra nuda vita, questa intollerabile vista pubblica della morte, insomma ci ha scosso in una società che aveva in qualche modo vissuto come ormai un diritto sociale acquisito il progressivo allungamento della speranza di vita in buona salute, quasi come fosse appunto un diritto sociale e quindi quell'esperienza della vista pubblica della morte che è molto diverso, qualcosa di molto diverso dal vissuto privato che ciascuno di noi può fare di un lutto. Beh è stato traumatico sicuramente l'anno della paura nera, ma voglio dire al di là della lettura congiunturale che brevemente ho voluto fare, noi dobbiamo dare una risposta a quella profonda inquietudine che attanaglia la nostra società e direi più in generale, ci arrivo fra poco, le società occidentali che come ho cercato di spiegare non dipende da, non è riferibile in maniera esclusiva all'epidemia, a questo trauma che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, che abbiamo vissuto lo scorso anno e che stiamo ancora vivendo. Perché come ho cercato di dimostrare, veniamo comunque da anni fortemente caratterizzati da uno stato di incertezza. Allora al di là della lettura congiunturale dobbiamo sforzarci di dare una risposta sul perché di questa profonda inquietudine. Ecco quando dico i dati sono insufficienti, non bastano a spiegare tutto. Allora proviamo, almeno io provo a fare un esercizio cercando di prenderla un po' più alla lontana, perché la lettura congiunturale non basta. Cerchiamo di fare un bilancio di quello che è accaduto nella società italiana, ma più in generale direi nelle società occidentali, negli ultimi trent'anni. Usiamo cioè come spartiacque l'anno 1989, poco più di trent'anni fa, come tutti sanno, l'anno della caduta del muro di Berlino, che insomma segna un nuovo ciclo storico. E proviamo oggi a fare un bilancio di quest'ultimo ciclo storico trentennale. Beh, se guardiamo i dati sono stati trent'anni straordinari, perché se guardiamo i dati in questi ultimi trent'anni il PIL del mondo è più che raddoppiato, è aumentato del 130% in termini reali. Il valore delle esportazioni a livello mondiale è aumentato di sei volte. Il valore degli investimenti sempre a livello mondiale sono sette volte quelli dell'89. E la popolazione mondiale che vive sotto la soglia della povertà internazionale è diminuita dal 36% al 10%. Quindi come vedete sono numeri assolutamente straordinari. Io direi che mai nella storia avevamo conosciuto dei progressi così consistenti, concentrati in un arco temporale tutto sommato relativamente ristretto, soltanto trent'anni. Sono i trent'anni della globalizzazione accelerata che abbiamo conosciuto appunto e che hanno segnato profondamente l'ultimo ciclo storico. Questi dati, questo bilancio, sono dati assolutamente lusinghieri. Quello che c'è dietro questi dati è assolutamente un processo straordinario, intensissimo di riequilibrio di quei profondissimi divari sociali ed economici che avevano caratterizzato storicamente i diversi paesi, le diverse regioni del pianeta. Cioè in questi ultimi trent'anni siamo riusciti, come dire, ad accorciare quelle distanze profondissime che storicamente avevano fratturato il pianeta tra, diciamo così, paesi, regioni del mondo di serie A e paesi, regioni del mondo di serie B. Sapete, trent'anni fa due terzi della popolazione in Cina viveva sotto la soglia della povertà. Oggi soltanto lo 0,5% dei cinesi vive ancora in una condizione di grave deprivazione materiale. Quindi sono stati dei processi straordinari. La Cina ne è un emblema, ma non è soltanto la Cina, gran parte dei paesi asiatici, perché quei progressi economici che sono stati compiuti da queste regioni del pianeta negli ultimi trent'anni si sono coniugati anche con dei progressi straordinari dal punto di vista sociale. Con un miglioramento generalizzato delle condizioni di salute di queste popolazioni, con un allungamento significativo della speranza di vita, con un innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, con un accesso di massa ai consumi che era sconosciuto precedentemente. In particolare la Cina, tutti sanno della crescita impetuosa dell'economia cinese, in particolare negli anni 2000, con tassi di crescita del PIL a due cifre, però quella crescita economica si è tradotta anche nella stratificazione di quella che potremmo chiamare una classe media anche in quei paesi che in passato erano invece fortemente provati da condizioni di disagio diffusissime nelle loro popolazioni nazionali. Quindi anche in quelle regioni del mondo è avvenuto qualcosa di analogo a quello che aveva caratterizzato le società occidentali, cioè la stratificazione di una solita classe media caratterizzata da buoni livelli di salute, da buoni livelli di istruzione, da un accesso di massa ai consumi. Il punto è che non è avvenuto soltanto questo negli ultimi 30 anni, perché come effetto di questi processi di globalizzazione accelerata è avvenuto in molti casi un vero e proprio sorpasso da parte di alcune economie e società che tradizionalmente consideravamo di serie B a scapito di alcune società ed economie occidentali. In qualche modo qualcuno ha pagato il prezzo di questi fenomeni di trasformazione, di questo accorciamento delle distanze. E a pagare il prezzo siamo stati noi. Se consideriamo il PIL espresso in termini di parità di potere d'acquisto, come se in astratto esistesse a livello mondiale un uguale sistema dei prezzi, noi scopriamo che già dall'anno 2014 l'economia cinese ha superato l'economia americana. Scopriamo che l'Italia è stata superata da un paese a molti sconosciuti come l'Indonesia. L'India ha superato la Germania, la grande potenza economica europea. Più in generale, voi pensate che 30 anni fa, nel 1989, le economie avanzate producevano il 64% della ricchezza del pianeta. Oggi, 30 anni dopo, producono soltanto il 36% del PIL del pianeta. Quelli che ancora chiamiamo paesi in via di sviluppo e mercati emergenti, 30 anni fa, nell'89, producevano il 39% del PIL del mondo. Oggi il 61%, cioè tre quinti della ricchezza mondiale è riferibile a quei paesi. Insomma, questi 30 anni di globalizzazione accelerata hanno finito per disegnare un nuovo ordine mondiale, che naturalmente, ai nostri occhi, si presenta come un nuovo disordine mondiale. Cioè, quello che le società occidentali stanno vivendo è il crepuscolo di quel mondo che avevamo conosciuto basato su una secolare supremazia economica, tecnologica, militare dell'Occidente. Allora, è questa la segreta paura che si è insinuata nelle nostre coscienze? Cioè, il fatto che prima o poi arriverà qualcuno e ci toglierà dal piedistallo del benessere. Prima o poi arriverà qualcuno e occuperà al nostro posto il palco della storia. È questa la ragione della nostra profonda inquietudine. E questo timore, questa paura si è insinuata, direi così, nell'inconscio collettivo, anche perché, guardate, che è tutt'altro che un fatto così proiettivo. Le persone hanno cominciato a sperimentarlo sulla propria pelle, attraverso un fenomeno che possiamo sinteticamente dire il blocco dei processi di mobilità sociale ascensionale. Cioè, da una generazione a questa parte, gli italiani, ma direi più in generale le società occidentali, le giovani generazioni, hanno sperimentato l'interruzione di quel meccanismo che ha caratterizzato il nostro modello di sviluppo. Cioè il fatto che generazione dopo generazione si potevano migliorare, anzi, era una garanzia, una promessa. Si sarebbero sicuramente migliorate le proprie condizioni sociali, occupazionali, economiche, il proprio benessere. Oggi l'ascensore sociale è fermo. Ecco perché, guardate, in coincidenza di questa trasformazione abbiamo registrato anche una significativa curvatura anche dei linguaggi e degli appelli politici. Vengo sulla cronaca di questi giorni, naturalmente, i fatti che abbiamo visto conseguenti alle nuove elezioni in America. Ma lo slogan trampiano, make America greet again, è assolutamente significativo di quello che sto dicendo. Perché la parola più importante in quell'espressione, make America greet again, è la parola again, cioè l'idea di tornare ad essere un grande paese. America first, o anche il nostro più prosaico, prima gli italiani, stanno a significare esattamente, a intercettare questa preoccupazione. Ecco perché negli ultimi tempi è cambiato totalmente il linguaggio politico. Abbiamo cominciato a parlare di sovranismo, di populismi. E Trump è stato un interprete, un interprete formidabile di questi straordinari cambiamenti che stavo dicendo. I famosi forgotten men di Trump, ovvero quelli che erano rimasti indietro, i dimenticati, gli esclusi. Quelli che più degli altri avevano pagato un prezzo rispetto a questo nuovo ordine mondiale che si è costituito. Allora, Trump ne è stato sicuramente un formidabile interprete, ma è un problema che ha riguardato tutte le democrazie liberali occidentali, le quali per la prima volta hanno sperimentato una oggettiva difficoltà a dare risposte ai bisogni sociali, ai desideri di emancipazione di quella classe media a cui erano sempre riuscite a rispondere. Cioè il cono d'ombra in cui ci siamo infilati oggi è esattamente questo, cioè la difficoltà delle moderne società liberali, delle moderne democrazie liberali a dare risposta a quella istanza della classe media. Ecco perché il trumpismo, ecco perché il ritorno di un'ideologia nazionalista, protettiva, delle frontiere chiuse, ecco perché l'inversione di un ciclo storico, quella della società aperta, che aveva caratterizzato in maniera incontrovertibile negli ultimi trent'anni. Guardate, se pensate che il Trump, il Donald Trump dei muri con il Messico, dei dazzi contro la Cina, appartiene a quel partito repubblicano a cui apparteneva Ronald Reagan, che più di trent'anni fa invece invitava Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino e ad aprire le economie dei paesi socialisti al resto del mondo, beh in questa inversione c'è la sintesi di quello che è accaduto in questi ultimi trent'anni. Lo stesso partito repubblicano, liberale, tradizionalmente liberale e liberista, ha espresso due presidenti, Reagan e Trump così profondamente diversi, ma perché nel frattempo in questi trent'anni è cambiato l'ordine mondiale. Allora questo è il tema con cui dobbiamo confrontarci e che dal mio punto di vista è la ragione di questa nostra profonda incertezza, di questo profondissimo spaesamento. Usando delle categorie di Ernesto De Martino potremmo dire questa è la fine del mondo, questa è l'apocalisse culturale, così la viviamo e questa è la ragione della nostra profonda incertezza. Il punto è, perché poi la domanda da porci è ma è tutto qui? Cioè possiamo spiegare tutto quello che sta accadendo soltanto con delle ragioni economiche? Cioè con quei numeri che ho raccontato riguardo il PIL, riguardo le esportazioni, riguardo questo? Possiamo spiegare tutto quello che sta accadendo esclusivamente facendo riferimento a delle ragioni economiche? Il passo in più che voglio provare a fare è dare una risposta negativa a questa domanda, nel senso che non possiamo spiegare tutto facendo riferimento a questo riequilibrio, diciamo così, della capacità produttiva e quindi anche degli altri indicatori sociali conseguenti tra le diverse ragioni del pianeta. Perché io cito sempre il motto evangelico, dico sempre non di solo pane vive l'uomo e si può aggiungere soprattutto quando non ne ha di pane, cioè è proprio quando il pane scarseggia, cioè quando le popolazioni vivono in una condizione di smarrimento, di crisi, quando il pane scarseggia sia in senso materiale dal punto di vista economico, sia in senso metaforico, è proprio in questi momenti che le persone smarrite, impaurite, consumano più immaginario. Cioè, diversamente da quello che intuitivamente si sarebbe portati a credere, è proprio nei momenti di crisi che le persone consumano più immaginario. meno pane, più immaginario. Ecco perché dico le ragioni economiche non spiegano tutto. Ed ecco perché io cerco, e tiro qui in ballo Alexandre Kojev, cerco delle spiegazioni che vadano oltre. Alexandre Kojev è in qualche modo un filosofo con cui dobbiamo fare i conti oggi per provare ad aggiungere delle risposte al nostro interrogativo sul perché di questa nostra profonda inquietudine. Perché Alexandre Kojev è il filosofo che nel novecento teorizzò il tema della fine della storia e si concentrò sulla sua teoria del desiderio, in particolare del desiderio di riconoscimento. Sono delle categorie molto utili per spiegare, dal mio punto di vista molto utili, per spiegare quello che ci sta accadendo. Intanto possiamo dire che noi stessi nel 1989, con la caduta del muro, l'abbattimento del muro di Berlino, noi stessi celebrammo in qualche modo la fine della storia, nel senso che con il crollo rovinoso dei regimi comunisti, con l'apertura al resto del mondo delle società socialiste, delle economie delle società socialiste, anche noi pensavamo che da quel momento in poi non c'era più nulla di nuovo da attendersi in termini di progresso della civiltà umana, dopo il trionfo incontrastato del modello capitalista. E quell'epoca anche a noi, che celebravamo la fine della storia nel 1989, l'epoca che si stava aprendo, anche a noi appariva inondata inondata di luce, inondata di ardore, di belle speranze e di grandi promesse. E per certi versi è andata così. C'è un titolo recente che voglio usare in maniera emblematica, che è quello dell'economista di fama internazionale, Branko Milanovic, che è stato appena tradotto in italiano un suo libro recentissimo che si intitola Capitalism Alone. In italiano l'hanno tradotto, capitalismo contro capitalismo, ma il titolo originale è più efficace, perché ci dice che alla fine ha vinto il capitalismo, nella duplice accezione, il capitalismo delle società liberali e liberiste occidentali o il capitalismo politico della Cina. Ma in ogni caso ha vinto il capitalismo. Ma il titolo originale di Milanovic è interessante, Capitalism Alone. Alone in un doppio senso, in una doppia accezione, nel senso che effettivamente c'è solo il capitalismo, dall'89 in poi il pensiero unico a livello planetario è stato il capitalismo, ma poi c'è quell'alone nell'accezione anche del fatto che alla fine ci sentiamo tutti più soli, inquieti e impauriti. Beh, ancora una volta, quello che è successo in questi trent'anni si può racchiudere tra questi due titoli. Da una parte la fine della storia di Francis Fukuyama, che celebrava il trionfo dopo la caduta del muro di Berlino, delle democrazie liberali e del capitalismo, dopo trent'anni Capitalism Alone di Milanovic e il bilancio di quello che è successo. Ma Kojev perché? Perché quando noi celebravamo la fine della storia dopo l'abbattimento del muro di Berlino dell'89 e Francis Fukuyama, il grande politologo americano, scrisse quel libro, in realtà faceva riferimento proprio a quella teoria di fine della storia che aveva coniato Alexandre Kojev. Cosa intendeva lui per fine della storia? Perché quel pensiero oggi ci è utile per cercare di decifrare quello che ci sta accadendo? Kojev, personaggio affascinantissimo, una biografia veramente avventurosa, nasce a Mosca nel 1902, ha una vita piuttosto rocambolesca, ma insomma non ho il tempo di raccontarla, per quanto sarebbe molto affascinante. Insomma, lascia la Russia, fa studi di filosofia in Germania, si laurea ad Heidelberg con Karl Jasper, poi si trasferisce a Parigi. È il clima della Parigi degli anni trenta, quel clima così culturalmente effervescente e a un certo punto, per una serie di combinazioni fortunate della sua esperienza, si trova nel 1933 a iniziare un seminario sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, all'Ecole pratique des autres études a Parigi, un seminario che durerà sei anni, dal 1933 al 1939, perché poi inizia la guerra e quindi il seminario si interrompe, un seminario che diventerà assolutamente celebre. Intanto perché aveva un uditorio piuttosto ristretto, ma formato dalle menti più brillanti dell'epoca, perché tra i suoi ascoltatori c'erano André Breton, Raymond Quinault, Georges Bataille, Jacques Lacan, insomma molti altri. Anche Jean-Paul Sartre, che sta per diventare l'astro nascente dell'esistenzialismo francese, verrà molto influenzato dal pensiero di Cogè. Ma insomma, lui rilegge la fenomenologia dello spirito di Hegel, in particolare un capitolo, quello della dialettica tra serve e signore, e teorizza la fine della storia. Cioè, lui dice qualcosa di molto utile oggi. Lui dice che la millenaria storia degli uomini viene messa in moto dal desiderio. È tramite il desiderio che gli individui cominciano a costruire la loro autocoscienza e si mette in moto la storia. Ma a che desiderio faceva riferimento Cogè? È un desiderio molto particolare. Non il desiderio di una cosa, di un oggetto. Non parliamo di un desiderio materiale, qualcosa che potrebbe soddisfare un bisogno, ma in fondo questo non ci distinguerebbe dagli altri esseri viventi, dagli altri animali. Cos'è che differenzia gli uomini dagli animali? Non il bisogno, il desiderio di un oggetto della natura, di qualcosa di inanimato. Quello che ci rende veramente uomini, quello che ci rende veramente umani, è il desiderio di un altro desiderio. Cioè il desiderio dell'altro, il desiderio che l'altro ci desideri. Quello che noi cerchiamo è quello che ci distingue dagli animali, è quello che mette in moto la storia, è il desiderio di riconoscimento. Noi vogliamo essere riconosciuti nella nostra dignità umana da un altro. Noi vogliamo che l'altro ci desideri. Naturalmente questo pensiero influenzerà molto Jacques Lacan, buona parte di quella corrente psicoanalitica, ma la cosa interessante è che appunto Kojev sosteneva che quello che mette in moto la nostra autocoscienza come individui e che mette in moto la storia e che ci distingue dagli altri esseri viventi è il desiderio di essere desiderati da un altro. È quello che lui chiamava il desiderio del desiderio. È talmente vero che questo è l'aspetto che ci distingue dagli altri, che noi siamo disposti anche a mettere in gioco la nostra vita per il desiderio di riconoscimento. Cioè quello che ci distingue dagli animali è che noi possiamo mettere in gioco anche un bene importante come la nostra sopravvivenza biologica pur di ottenere la soddisfazione del nostro desiderio di riconoscimento. È questo che ci differenzia dagli animali. Cioè che noi possiamo mettere in atto una lotta per il puro prestigio. Ecco come nasce la storia. La storia, secondo Kojev, riprendendo Hegel. Hegel diceva la storia è un banco di macellaio. La storia è questo, è una lotta cruenta, sono spargimenti di sangue. È quello che noi leggiamo nei nostri manuali di storia sui banchi di scuola. Una lunga, ininterrotta sequela di guerre, di battaglie, di aggressioni, di servitù, di tirannie. E noi possiamo, noi mettiamo in moto la storia attraverso la lotta perché quello che cerchiamo è il desiderio di riconoscimento. È una lotta al rischio della morte per il puro prestigio. Questa è la storia, secondo Kojev. Ma Kojev diceva anche che la storia ha un fine ed ha una fine. La storia termina, secondo Kojev, quando noi vivremo una condizione in cui vivremo una condizione di universale e reciproco riconoscimento degli individui. Lui fissa alcuni momenti, poi ci ripensa. All'inizio pensa che la storia si è finita con la rivoluzione francese e con Napoleone, quando viene istituito il sancito, il principio politico della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui. Poi ci ripensa, si convince che sia Stalin e quindi la rivoluzione di ottobre e l'Unione Sovietica ad incarnare il nuovo Robespierre. Poi alla fine arriva a concludere che no, è l'American way of life la fine della storia. Cioè, addirittura in maniera molto provocatoria, lui diceva che se Marx era Dio, il suo profeta era Henry Ford, quindi il capitalismo fordista, che secondo lui era l'ultimo autantico marxista, nel senso che è tramite il capitalismo che poi si arriva a coniugare la soddisfazione dei bisogni materiali delle persone con quel desiderio di riconoscimento, cioè di una classe media in cui la sicurezza di tutti i cittadini si coniuga con il riconoscimento dei loro diritti sociali, civili. Quindi lui aveva questa idea di una storia che tende ad un fine, quello della soppressione, della diffidenza, diciamo così, della distanza tra il soggetto e l'altro, tra l'individuo e l'altro. Quindi lui era convinto che si sarebbe giunti ad un contesto mondiale in cui ogni individuo avrebbe avuto soddisfazione del suo desiderio di riconoscimento. In qualche modo possiamo leggere in questa teoria degli anni 30 e 40 di Kojev una prefigurazione di quello che poi è successo con la globalizzazione moderna. Io mi spingo a fare questa analogia, lo dicevo prima, quei processi di grande trasformazione economica hanno finito per consolidare anche in quelle società, che una volta erano di serie B, una solida classe media. Ma quello che non torna nel ragionamento di Kojev è l'altra parte del ragionamento che ho fatto, cioè il fatto che dall'altra parte del mondo qualcuno poi ne abbia pagato il prezzo. E oggi stiamo vivendo questa profonda inquietudine derivante dal fatto, detto con una battuta, che il baricentro del mondo si sta spostando dall'Atlantico al Pacifico. E allora, per quanto questa teoria della fine della storia sia molto affascinante, quella di Kojev e che in qualche modo trova anche una esemplificazione concreta in quello che è successo negli ultimi 30 anni, noi troviamo oggi un desiderio che non ci risulta pienamente appagato. Ritorna questo desiderio. Non siamo, come diceva, non siamo diventati, come Kojev diceva, degli animali post-storici sottratti alla logica del desiderio. Questo desiderio, desiderio nell'accezione di desiderio di riconoscimento, torna oggi più forte che mai. Quando, dicevo, si è insinuata nelle nostre coscienze la segreta paura che prima o poi qualcuno arriverà e ci toglierà dal piedistallo del benessere, che prima o poi qualcuno arriverà e ci toglierà dal palco della storia, con i nostri privilegi, con le nostre primazie, beh, dico questo, che torna ad essere messo in scacco il nostro desiderio di riconoscimento, che è un desiderio di riconoscimento sociale. Kojev, filosofo, si esprime esattamente in questi termini. E in fondo, guardate, le scene di cronaca delle ultime ore, degli ultimi giorni che abbiamo visto nel cuore della società americana, non sono forse interpretabili in questo senso? Le persone che abbiamo visto non erano persone con un desiderio di riconoscimento che oggi è tornato ad essere insoddisfatto? Non sono cioè il riflesso di quel blocco di meccanismi della mobilità sociale che invece avevano segnato il percorso della soddisfazione, di quel desiderio di riconoscimento di una classe media che era cresciuta negli ultimi anni in maniera, in maniera assolutamente forte, determinata. Ecco, io credo, ho parlato forse anche fin troppo tempo, quindi mi avvio alla conclusione, io credo che sia questo il cono d'ombra in cui ci siamo infilati. Noi come società italiana, come individui, in generale come società occidentali. Credo che questo ci aiuti a spiegare molto di quello che sta succedendo e come vedete all'insegna proprio di questa giornata e del vostro nuovo ordinamento, come vedete nel mio tentativo di mettere insieme alcuni modi per spiegare quello che ci sta accadendo. Ho cercato anche di attingere il più possibile a discipline diverse, dalla statistica alla filosofia, dall'analisi sociale all'analisi politica, perché io sono molto assolutamente convinto di questo aspetto. Noi non riusciremo a trovare delle spiegazioni veramente efficaci che ci possano indicare e tracciare una strada per uscire da questo cono d'ombra se rimarremo ingabbiati in una, come dire, autoreferenzialità tipica delle specializzazioni del sapere. E allora quello che ci sta accadendo trova delle forti spiegazioni nelle ragioni economiche che sono supportate dai dati, ma trova anche forte spiegazioni in quella, dal mio punto di vista, teoria del desiderio di riconoscimento di Kojev, che oggi mi sembra particolarmente efficace per il nostro contesto. Un'ultimo, un'ultima nota e poi veramente chiuso, ho parlato fin troppo e me ne scuso. Oggi per certi versi possiamo dire forse si sta inaugurando un nuovo corso. Io dico siamo in una piena frattura della storia, ma qualcuno dice si sta inaugurando un nuovo corso perché in fondo Trump ha perso le elezioni. Questo è il segno che si inaugura un nuovo corso, c'è un nuovo presidente con registri anche linguistici totalmente diversi. Qualcun altro aggiunge, ma anche in Europa si sta inaugurando un nuovo corso a Bruxelles, il recovery plan, la sospensione del patto di stabilità europea. Figuriamoci, noi abbiamo conosciuto l'Europa dell'austerity, l'Europa nemica e matrigna di Bruxelles. No, oggi c'è un nuovo corso. Sono segnali da cogliere, certo, ma molti altri hanno osservato come se Trump per certi versi si può dire finito, non è detto che sia finito il trumpismo. Qualcuno ricorda che in fondo, pur dopo averlo visto all'opera per quattro anni, più di 71 milioni di elettori americani, ovvero poco meno della metà, hanno comunque votato per lui. Cioè cosa voglio dire? Che magari sì, si inaugura un nuovo corso, ma voglio dire anche che quelle stanze che spiegano in qualche modo tutto quello che ho provato a mettere insieme questa mattina, sono ancora presenti. Non è che il fatto che Trump abbia perso le elezioni cancella quella dimensione del forgotten man. Non è il fatto che in Europa si sia annunciato un nuovo corso e si comincino a mettere in atto delle misure in quella direzione, cancella quella profonda inquietudine che abbiamo sentito fino a ieri. E in più, l'ultima nota, in più forse tutto si complica nel momento in cui tutti questi ragionamenti vanno calati dentro quella che io chiamo una grande metafora, che è quella dell'epidemia, la quale naturalmente è una preoccupantissima, drammatica emergenza sanitaria, ma allo stesso tempo, guardate, è anche una grande metafora con dei contributi simbolici fortissimi. È una grande metafora in cui ci sono due polarità dicotomiche, quelle dei contagiati e degli immuni, che insomma sono tipicamente quelle polarità dicotomiche che finiscono per inscatolare il pensiero sulle divergenze, sulle opposizioni, sulle divaricazioni. Allora, tutto si complica nel momento in cui quelle due espressioni, i contagiati e gli immuni, da categorie cliniche appropriate effettivamente, quando si parla di emergenza sanitaria, finiscono in una specie di slittamento lessicale, addirittura possono diventare, fissarsi in una nuova, in una specie di nuovo paradigma politico. Questo secondo me, quello cioè della no, della differenza, del distanziamento dall'altro, questo secondo me è uno dei temi da tenere sotto osservazione per come evolverà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Perché da una parte abbiamo delle ragioni sociali, economiche, storiche che spiegano la nostra profonda inquietudine, dall'altra abbiamo anche le lusinghe, le sirene di questo modo di pensare fortemente polarizzato, al quale dobbiamo in tutti i modi cercare di resistere. Quindi grazie ancora per l'invito che mi avete voluto fare per questa mattina. Scusatemi per la lunghezza del mio intervento, ma sono interventi, sono temi talmente appassionanti, anche perché credo che stiamo vivendo una fase storica veramente delicata, da cui dipenderanno anche gli sviluppi futuri in termini di prossimi anni, se non decenni. Quindi scusate per la lunghezza del mio intervento e grazie ancora per l'invito a questo confronto di questa mattina. Grazie. Grazie a lei e penso di interpretare davvero il pensiero di tutti nel dire che non è stato avvertita per niente la lunghezza, ma al contrario ci ha proprio coinvolti, affascinati in un discorso che ci interessa sicuramente moltissimo. Si colgono, credo questo sia arrivato un po' a tutti, molti punti di connessione, peraltro con quella che è appunto la riflessione che anche noi dal nostro vertice professionale possiamo fare. Ci vorrà del tempo per digerire, credo, anche tutte le informazioni che ci ha dato e che mettono in ordine, come si diceva, molte cose che abbiamo visto, che sono sotto gli occhi, ma che poi hanno bisogno di una certa sistematizzazione che ci ha fornito in maniera eccellente. Per cui assolutamente il tempo è stato adeguato, siamo perfettamente nei tempi e molto ben sfruttato, direi. Io adesso, come dire, abbiamo la pausa da programma e ci serve proprio per raccogliere le idee e poi rilanciare a un dibattito un po' tra i partecipanti. Mi permetto solo di dare un piccolissimo, primissimo, così, accenno, perché veramente i punti su cui ci ha sollecitato sono tantissimi. Però ecco, dico solo due cose e poi riprendiamo dopo tutto. Una un po' più pessimistica, diciamo, tra virgolette, che nel quadro che ha fatto anche della popolazione più in crisi, noi ci rientriamo pienamente, giovani e donne. Come dire, il nostro gruppo di studenti, di allievi, rientra, ahimè, in questa categoria. Quindi da una parte ci sentiamo molto toccati. Questa era un po' la nota negativa, tra virgolette, ma anche reale. Dall'altra, però, questa chiusura invece che ha fatto, collegandola più appunto al pensiero filosofico, parla di desiderio del riconoscimento, che è il nostro campo. Cioè, niente a dire, noi lavoriamo col desiderio di riconoscimento. È un po' un fulcro del pensiero analitico, no? Sia nella possibilità che l'analista sia l'altro che riconosce e poi il riconoscimento anche come conoscenza di se stessi, che è un po' il caposaldo su cui si costruisce tutto. Quindi la speranza dall'altro lato invece è che forse siamo tra le categorie professionali, insomma, in un vertice di osservazione buono per provare a ragionare sulle tante riflessioni, sui tanti stimoli che ci ha lanciato, insomma. Questo era proprio solo per inaugurare, ma lasciamo a dopo un pensiero un pochino più libero da parte di tutti e che ci consenta davvero di costruire su queste riflessioni, iniziare a costruire. Immagino che appunto è l'apertura dell'anno sarà l'apertura di una riflessione che poi va ben oltre il nostro seminario.